Buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di FanoTV oggi è venerdì 21 aprile 2017 giustamente giusto un mese fa il 21 marzo entravamo nella primavera in realtà stiamo parlando di giornate invernale lo vedremo tra poco anche nelle informazioni meteorologiche che vi daremo prima però diamo altro tipo di informazioni cioè quelle relative al santo del giorno il nostro breve almanacco che ci dice che oggi è Sant'Anselmo d'Aosta un santo vescovo del 1033 sole sorto alle 6.14 tramonterà alle 8 di questa sera allora la fotografia è quella che ci mostra l'immagine che ci mostra il satellite che è aggiornato alle 7.25 di questa mattina vedete l'Italia è più o meno sgombra dalle nuvole a parte il settore centro meridionale le isole insomma un po così anche se il tempo per oggi previsto come ci indica la grafica di Geometeo.it è un cielo parzialmente nuvoloso con schiarite le temperature sono in diminuzione soprattutto quelle minime quindi farà ancora più freddo di notte abbiamo raggiunto i 3-4 gradi questa notte domani può darsi stanotte può darsi anche di più anche meno nel senso andremo anche più sotto questa è la fotografia invece la grafica per domani sabato 22 di aprile ancora vedete cielo cielo sereno poco nuvoloso più o meno insomma il tempo brutto le precipitazioni sono per ora terminate allora andiamo a vedere adesso i giornali velocemente la nostra rassegna stampa comincia questa mattina con la pagina di pesaro del resto del carlino la foto è con luciano pavarotti vedete io e big luciano l'ex maggiordomo del tenore racconta 13 anni a fianco al del tenorissimo molti passate villa giulia con nicoletta mantovani ministro stiamo parlando del ministro del rio oggi a pesaro ci ridia le strade perdute dieci domande appunto al responsabile delle infrastrutture fanno grossetto declassata le ex strade statali sono in degrado poi vedremo tra un istante le altre notizie che sono riportate in prima pagina cominciamo e andiamo nelle pagine interne quella di fanno meno couscous più pasta al pomodoro ci sono ancora critiche sulla mensa delle scuole che finisce dunque nel mirino del vecchio e magrini accusano infatti il comune l'assessore mascherina replica e dice solo 72 bambini hanno rinunciato al servizio la città dei bambini di giuni questo è il questo lo slogan il menu delle mense scolastiche di fanno non convince i consiglieri d'opposizione ma soprattutto secondo davide del vecchio dell'udc mariana magrini e gialluca e lari di progetto fanno non convince i bambini e c'è qualche protesta anche chiaramente dei genitori poi l'altra pagina invece a bell'occhi di fanno sigilli al contatore per una bolletta non pagata ancora grane dunque in quel quartiere non c'è pace per gli inquilini delle case rent to buy un disguido con la società dice l'amministratore non ci hanno consegnato una bolletta da 1200 euro uno stato così lontano così distratto varotti amerigo varotti dice che il direttore provinciale direttore provinciale della conf commercio dice le strade le ferrovie le infrastrutture in generale sono sono quelle che sono sono gli occhi sotto gli occhi di tutti nessun passo in avanti e lo stato è così distratto non fa nulla la città di pesero in lutto invece l'addio a pino scalognini la memoria del porto scomparso alle soli dei 95 anni scrittore regista e tanto altro un'esistenza intensa nel segno del mare che conosceva bene era un archivio vivente sotto invece l'ultimo saluto a patrizio il ciclista morto il morto d'infarto scavolini l'azienda nella quale lavorava chiude la fabbrica ciao patrizio padre esemplare e amico carissimo manette al grossista dello spaccio la cronaca da mondolfo preso un quarantenne di tre castelli neguai anche un 33enne mondolfese due diverse operazioni dei carabinieri di fano era anche un po spavaldo questo questo signore che è stato questo quarantenne che è stato perquisito in casa perché quando sono arrivati i militari a loro ha detto cercate bene cercate bene che ho anche le pasticche e spianti di reni fegato e corne di un settantasettenne i familiari di questo settantasettenne ricoverato all'indomani di pasquette in rianimazione all'ospedale di fano per una improvvisa emorragia cerebrale deceduto anche il giorno dopo hanno consentito i parenti alla donazione appunto degli organi reni fegato e corne apriamo adesso il corriere adriatico anche la pagina di fano la pagina di fano del corriere adriatico dunque servono servizi in ugual misura penalizzati dalle no dalle non scelte parla riccardo severi ex capogruppo di noi città severi è uscito da noi città la lista civica che che aveva come suo fondatore appunto il sindaco l'attuale sindaco incalza la giunta chiesto un consiglio ad hoc sull'occupazione eagles ospedale ed ex zuccherificio risorse sprecate serve un osservatorio con pesaro ancora ecco l'anche che avevo tirato fuori prima couscous si pasta no anche sul corriere adriatico si parla delle mense che non piacciono a tutti la protesta è servita mense scolastiche menù contestati dei genitori opposizione all'attacco e c'è anche chi resta a digiuno enti pubblici attenti ai cani malati psichici invece dimenticati proteste e provocazione di una mamma di fronte a borsa e lavoro da circa 150 euro la vita di un cane questa è la domanda vale più di una vita umana se lo chiede invitando ad una riflessione una famiglia fanese con un figlio con disabilità psichica a carico auspicando una maggiore attenzione verso questa categoria la valle del cesano bazar dello sballo in cameretta ecstasy cercate bene ce l'ho fermato in auto poi la perquisizione in casa restato un 39enne che viveva con i genitori che erano ignari di tutto quello che stava facendo della doppia vita soprattutto del figlio san francesco 300 mila euro per sistemare la chiesa a mondavio approvato il primo stralcio il sindaco zenobi è soddisfatto il primo passo è stato fatto questo è il titolo per quanto riguarda la cronaca della valle del cesano con biciclan biciclan sarà una città più sostenibile ecco il piano confronto tra amministrazioni professioniste associazioni e cittadini sulla diversa mobilità un progetto di mobilità sostenibile per migliorare lo stile di vita dei cittadini nell'immagine nella fotografia pubblicata dal corriere barbieri e catalani durante l'intervento e poi da senigallia furbetti delle tasse un salasso a senigallia i cittadini non pagano le tasse e le multe e così il comune costretto ad accantonare 13 milioni di euro per far fronte ai mancati introiti ladri senza cuore anche a scuola siamo sempre a senigallia fuggono con le biciclette dei ragazzini aumentano i furti delle due ruote c'è un gruppo su facebook dove pubblicizzare le segnalazioni appello della mamma di una studentessa che frequenta la media fagnani poi a centro pagina vedete vietato raccogliere i fiori nelle aree protette ci sono furti anche di fiori e piante che crescono nelle aree verdi protette dell'arenile e il giornale ricorda che tutto questo è vietato il cardinale menichelli e siamo sulle cronache sulle pagine di pesado del Corriere Adriatico il cardinale dicevo menichelli in preghiera per la pace messa incontro a santa maria di loreto riferimenti a terra santa e medio oriente come eravamo prima di internet prima dei selfie foto con il sapore del tempo che fu c'è questa originale iniziativa di sorcinelli e il fieri che hanno raccolto oltre 800 immagini 800 san costanzesi ritratti tra il 1905 e 1925 nel volume dal titolo il paese in posa muore schiacciato sotto le bombole del gas è una notizia che arriva da mazzara del vallo però è un incidente sul lavoro in un ventiere appunto di mazzara del vallo però vittima è un operaio bulgaro di 39 anni residente a Fano ferito ma subito dimesso invece il suo collega della Magigasa di Ancona posta sotto il sequestro l'intera area è stata aperta anche un'indagine chiudiamo con le due pagine di Urbino Gambini il PD boccia il suo tour deve solo rifarsi il nome dicono quelli del partito il direttivo poi aggiunge conosciamoci meglio lo slogan che ha scelto Gambini francamente è sbagliato perché dicono loro governa da 18 anni per cui come dire lo conosciamo benissimo la minoranza ripercorre la carriera politica del sindaco cominciata nei democratici di sinistra fondo rifatto ma in via mazzini resta chiusa via mazzini resta chiusa ancora dieci giorni sempre a Urbino serve ancora un po di tempo per far assestare il porfido e intervenire sui marciapiedi poi schiaffi e insulti alla fermata dell'autobus sono stati segnalati dei bulli l'ultimo episodio a Urbino è avvenuto pochi giorni fa alcuni bulli prendevano ripetutamente in giro dei loro coetanei appena scendevano dall'autobus e ci sarebbero stati anche degli schiaffi con questo chiediamo qui la nostra segna stampa vi ringrazio per averci seguito vi ricordo il 338 49 68 250 se non l'avete ancora fatto memorizzatelo nel vostro cellulare sotto la voce fano tv e poi li potete utilizzare con l'applicazione whatsapp tutto tutta l'applicazione appunto per mettersi mettersi in contatto con noi mettervi in contatto con noi e quindi inviarci foto e video che per noi sono sempre molto molto importanti e fondamentali grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia